amici di milan punto essi eccola qua avete visto la copertina perché a volte mi dite hanno la copertina come faccio a vederla me lo faccio vedere io avete visto rimettila ci sono incredibili notizie che ci arrivano come conferme dalla spagna ne avevamo già parlato per chi ci segue adesso però approfondiamo questa materia questo argomento come state trascorrendo la domenica come va come va come va beh siamo diciamo ormai a poche ore dall'inizio della partita quindi siamo ancora abbastanza rilassati inizia a salire un po d'ansia ma prima di iniziare a far salire troppo il livello d'ansia vi ricordo qui sotto di iscrivervi al canale mi raccomando fatelo numerosi ci siamo siamo verso i 10.000 e voi fate parte del primo nucleo quello che fonda questo questo canale quindi mi raccomando entrate in questo fantastico club e poi più in basso sotto abbiamo in descrizione il libro romanzo milan bene 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 dicevo ci sono novità una a dire il vero non proprio non proprio buona perché vabbè perché c'è stato un problema con bartesaghi quindi il milan a sinistra avrà florenzi e gimenez come alternativa quindi abbiamo un doppio problema un doppio problema in porta un doppio problema come terzino sinistro il milan ora ne ha praticamente fuori otto ma non ci interessa questo noi vogliamo andare e vincere questa partita e vogliamo far esultare tutti i 75 mila sold out ormai da tempo di san siro allora la cosa che più che così per allegrare un po questa domenica per sentirci un po un po vivi prima della partita parliamo un attimo di calcio mercato perché la voglia di brain diaz braimino nostro ve lo ricordate il gol alla juventus mamma mia che bel gol ragazzi ricordo anche l'esultanza di ibraimovic in porta che da un calcio a quel a quel sedire la voglia di lasciare nuovamente il real madrid per approdare in una squadra che gli garantisca un certo tipo di minutaggio io non non so cosa dire perché brain diaz ha sempre diviso il pubblico rosso nero da una parte chi lo ama dall'altra chi lo trova eccessivamente come posso dire eccessivamente incostante io credo che sia un giocatore che in questo momento al minan possa servire per spaccare la partita come riferisce un'importante testata per la giornalistica spagnola per ibra e per brain diaz si è fatto avanti un club del della premier league un club che conosciamo è la stone villa di emery e che vuole a tutti i costi il giocatore ma il giocatore vuole a tutti i costi il milan è un interesse concreto che quello della stone villa tanto che da birmingham sono pronti anche a presentare un'offerta da 35 milioni di euro non ha letta questa proposta il calciatore l'abbiamo detto e stando quanto a quanto riferisce questa testata giornalistica brain diaz spera in una chiamata di stefano pioli ora qual è la novità rispetto a questa notizia la novità è che secondo questa testata giornalistica il milan avrebbe contattato il l'agente del giocatore e comunque stefano pioli avrebbe dato l'ok per il ritorno rimettila braimino rimettila chissà che questa notizia alla vigilia di una partita importante come milano juventus non possa dirsi una soluzione per il futuro allora per quanto riguarda girù ha parlato e ha detto che l'obiettivo che hanno i ragazzi che loro hanno è quello di rivincere lo scudetto di nuovo lo scudetto e per cui loro già quest'anno vorranno provare a vincere la seconda stella e andare quanto più avanti possibile in champions in champions league faccio diciamo così un'analisi anche per quanto riguarda la non aggiornata che non è conclusa perché chiaramente si stanno giocando ancora e dovranno ancora giocarsi delle partite chi interessa ci interessa atalanta genoa un po per la zona alta della classifica la non buona notizia è che nessuno ha perso punti ha vinto l'inter diciamo che vedremo cosa farà la fiorentina nel derby di domani sera quindi non l'ho considerata solo perché proprio la partita sarà domani sera però è una fiorentina forte bisogna stare molto attenti a questa fiorentina comunque dicevo l'inter non ha perso punti il napoli non ha perso punti la roma con la solita polemica finale con il piangina con murigno che fa gesti comunque non ha perso punti il bologna beh io mentre giro questo video siamo al novantunesimo bologna frosinone due a uno attacca il frosinone il bologna resiste ancora da lontano una piccola telecronaca non è che vogliamo togliere il mestiere a chi lo sa fare meglio di noi comunque il bologna è una solida realtà come diceva un noto spot in televisione vedremo perché anche del lazio lazio la lazio la lazio ha vinto a sassuolo quindi milan che cosa dire devi fare il milan e cercare a tutti i costi di portare a casa la partita perché è un momento importante i club o meglio gli scontri diretti sono stati in passato il nostro piatto forte derby a parte per cui cerchiamo di mantenere questa costanza anche se quest'anno una delle caratteristiche di questo nuovo bolide che guida sempre stefano pioli è il fatto di saper camminare su strade sterrate di vincere quelle partite cosiddette sporche torna 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 il nostro il nostro patron torna gerry cardinale non a san siro contro la juventus ma torna a da diciamo torna nella partita pari san germain milan che insomma seguiremo con una certa con una certa attenzione pari san germain sta bene ha vinto facilmente l'ultima partita quella giocata ieri tra l'altro il milan è la squadra che riposa meno io vi do questa informazione e poi ognuno ne faccia a buon uso perché oggettivamente c'è anche la possibilità che si venga definiti piangina ma oggettivamente come dicevo così il pari san germain ha giocato l'inter ha giocato noi invece dobbiamo ancora giocare riposiamo un giorno di meno e tra l'altro il pari san germain che ha una squadra molto lunga ha fatto riposare mbappé a parte un po tutti quelli più da champions league va bene detto questo le informazioni ve l'abbiamo date adesso inizia veramente quell'anzietta mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto commentate fatemi sentire che siete con noi che avete voglia di questo canale perché il mio canale ma soprattutto è il vostro canale bye bye a dopo